Buona domenica a tutti di nuovo e bentornati e benvenuti qui sul mio canale per il 38esimo episodio del TG Tennis Azzurro, la rassegna giornaliera che vi tiene aggiornati sui risultati e sui match in programma dei tennisti e delle tenniste italiane in giro per il mondo. Quest'oggi andremo a vedere un po' quanto accaduto ieri con dei risultati anche deludenti per alcuni tennisti nei quali si riponevano molte aspettative, invece altri hanno stupito e si giocheranno anche una finale nella giornata di oggi. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo con la prima grafica di oggi. Prima grafica intanto dedicata alla Coppa Davis con l'Italia che affronterà l'Olanda in un match ininfluente ai fini della classifica per l'Italia che ha già staccato il pass ieri, ma una vittoria con l'Olanda significherebbe primo posto nel girone. Staremo a vedere quali saranno le scelte di Volandri. Challenger 75 di Guangzhou semifinale Nardi contro Shimabucoro. E qui è arrivata la delusione perché Nardi ha perso in due set contro il numero 196 del mondo con il punteggio di 2-6-4-6. Ora, vincere non è mai scontato, vincere non è mai d'obbligo, però in questo caso credo che fosse quanto meno doveroso per Nardi centrare la finale di questo Challenger 75 di Guangzhou. E invece è arrivato un brutto stop, una brutta sconfitta contro Shimabucoro, giocatore molto modesto, sconfitta anche abbastanza netta e quindi Nardi che dovrà un attimo capire cosa migliorare perché inizio anno sembrava un altro giocatore, sta avendo un'involuzione preoccupante. Il futuro è dalla sua parte, però urge sicuramente invertire la rotta. Ieri una finale si è giocata, quella del Challenger 75 di Dobric 2 ma del doppio perché Maestrelli e Romano hanno affrontato Draxl e Harper. Purtroppo è arrivata una sconfitta al termine di una partita al cardiopalma perché primo set vinto 6-1 da Draxl e Harper, 6-3 poi per Maestrelli e Romano e poi un super tiebreak infinito dove gli azzurri si sono anche trovati avanti ma alla fine ha avuto la meglio la coppia appunto composta da Draxl e Harper con il punteggio finale di 12-10 al super tiebreak. Comunque un buon torneo di doppio per Maestrelli e Romano. Niente da fare anche per Lucia Bronzetti che nel VTA 2-50 di Monastir cede in due set a Zramkova con il punteggio di 3-6-4-6. Un'altra mezza delusione in quanto anche per Lucia la semifinale era più che alla portata purtroppo così non è stato e quindi eliminata torna a casa Lucia Bronzetti. Passiamo ora alle note positive perché nel Challenger 125 di Zziecin nome abbastanza impronunciabile in Polonia semifinale giocata ieri da Andrea Pellegrino ragazzo di 27 anni numero 175 del mondo che batte il suo avversario Campana Lee in 2-7 con il punteggio di 6-3-6-4 e vola in finale dove quest'oggi affronterà Copriva. Grande torneo di Pellegrino, grande vittoria in semifinale e ora contro Copriva, match da 50-50. Pellegrino che a prescindere ma a maggior ragione se dovesse vincere la finale scalerebbe il ranking e sarebbe intorno alla posizione numero 120 quindi non troppo distante dalla top 100 per un giocatore di 27 anni come Pellegrino questo direi che è veramente un merito e un grande risultato. Oggi c'è un'altra finale con un'azzurra protagonista parliamo del VTA 125 di Ljubljana con Nuria Brancaccio in coppia con Romero Gormas contro Giorcesca e Tecman, finale del doppio quindi con la possibilità di andare a portare a casa un trofeo. Staremo a vedere se l'azzurra ce la farà, aveva fatto anche un ottimo torneo nel singolare Nuria Brancaccio e quindi forza alle nostre azzurre e in questo caso appunto a Brancaccio forza Pellegrino per cercare di portare a casa un trofeo in questa domenica di settembre. E poi chiaramente ci concentriamo sulle qualificazioni dei tornei che iniziano oggi e ci accompagneranno per tutta la settimana un sacco di azzurri protagonisti Cominciamo dal Challenger 125 di Bad Waltersdorf in Austria Terra rossa, Buldorini contro Oberleitner Prima partita di questo torneo Ci spostiamo negli Stati Uniti Columbus, Challenger 75 Lorenzo Claverie contro Langmo nel primo turno di qualificazione Poi Challenger 75 di Sibiu In Romania sempre sulla terra rossa Qualificazioni che prendono via quest'oggi Quattro azzurri ai blocchi di partenza Bondioli contro Snitari Guerrieri contro Kivacev E Romano contro Juarez Per un derby tutto azzurro Trentottesimo episodio del TG Tennis Azzurro Che termina qui Speriamo di poter commentare domani nel trentanovesimo episodio Qualche vittoria di o Pellegrino magari o Brancaccio ma anche gli altri nelle qualificazioni Per chiudere un'altra settimana alla grande Anche perché ricordo che il weekend scorso avevamo chiuso con la vittoria di Sinner Degli US Open e la vittoria di Passaro Nel Challenger di Genova Quindi speriamo che possa diventare una piacevole abitudine Io vi auguro di nuovo una buona domenica Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale Per un nuovo video a tema tennis in serata Ciao a tutti